Buonasera, benvenuti. Siamo qui per presentare la fase conclusiva del premio Regula, bandito dall'editore Riccardo Dell'Anna e il volume straordinariamente illustrato dedicato a 100 progetti italiani e finalmente per la prima volta dopo 6 anni di segretariato generale non introduco e coordino perché c'era l'architetto Franco Bulgarini a fare questo lavoro e per cui mi limito a portare i saluti del Presidente dell'Accademia Nazionale di San Luca, maestro Gianni Desi e degli academici tutti molto orgogliosi di ospitare questa importante iniziativa e tengo a precisare che questa iniziativa rientra un po' anche nello spirito, diciamo nel DNA della stessa Accademia Nazionale di San Luca che dal 500, dagli anni della propria fondazione ha sempre sollecitato la creatività per quanto riguarda la pittura, la scultura e l'architettura in nome della equa potestas, della parità di diritto e diciamo di progettualità delle tre discipline lo sforzo che attualmente stiamo facendo è di uscire dallo stretto specifico disciplinare in modo che la creatività più contemporanea, dalla fotografia al design, al fashion design possa trovare spazio all'interno dell'Accademia di San Luca ma questo è un altro problema e comunque si inserisce all'interno di questa ricerca diciamo di progettualità sollecitata e ricordo a chi non fosse informato che l'Accademia è sempre stata propulsiva e propositiva proprio sino a bandire concorsi con la liberalità di pontefici o di personaggi illuminati e illustri dai concorsi Balestra ai concorsi Clementini in primis fino ai concorsi dell'Ottocento instaurati e finanziati dallo stesso Antonio Canova il grandissimo scultore neoclassico per cui è pienamente nello spirito dell'Accademia cercare non solo questa sorta di scimento come si direbbe in termini musicali ma di stabilire diciamo qual è lo stato dell'arte attraverso la sollecitazione della creatività per cui una serata e un'occasione di incontro perfettamente in sintonia in sintonia anche con quella che è sempre stata la ricerca di una sorta di ordine superiore di queste discipline ricordo che a partire dalle elaborazioni diciamo poetiche di Francesco Petrarca soprattutto nella seconda metà del 300 poi nel 400 e nel 500 soprattutto c'è per quelle che erano allora in quegli anni le università della pittura le università della scultura o dell'architettura che saranno poi ereditate dalla complessiva ed esaustiva Accademia Nazionale di San Luca verso il 1590 allora c'era il problema diciamo della superiorità delle singole discipline oggi per fortuna non c'è più il problema della superiorità allora si trattava di capire il volgare rispetto all'uso della lingua latina si trattava di capire e soprattutto è benedetto Varchi un grande sodale di Michelangelo a porre il problema della primazia tra le varie arti ecco non voglio farla lunga più di tanto passo la parola all'architetto Franco Bulgarini che introdurrà e coordinerà l'intera serata grazie passo la parola all'editore dell'Anna